Se non sbaglio, quella signora, la dottoressa Vittoriani di Porta a Porta, vediamo, controlliamo se è veramente lei? Eh sì eh, amici di Teleton, per Rainet mi sa che è proprio lei, sì sì, è la dottoressa Vittoriani, la possiamo disturbare un secondo? Certo, bene, grazie, sono felice di essere qui oggi, è stata importante. Anche noi fa molto piacere ritrovarla qui, per una volta nella capitale, fissa a dimora, visto che Bruno Vespa la manda sempre per mari e monti in cerca di notizie. È vero, infatti proprio nella mia esperienza giornalistica ho avuto modo di incontrare tante persone affette da malattie genetiche, quello che mi ha colpito devo dirvi è la grande voglia di vivere, la grande voglia di guardare al futuro e noi siamo qui per aiutare a fare questo, a dare speranza a queste persone che hanno una grande forza, una grande voglia di andare avanti, quindi donate 45505 perché la ricerca scientifica deve andare avanti e può aiutare queste persone. Grazie.